ciao a tutti oggi siamo a miola e il paese dei presepi venite con noi a scoprire questo meraviglioso borgo del trentino e iscrivetevi al nostro canale oggi siamo a miola proprio sopra basella di pinè a un quarto d'ora circa da pergine vassugana qui in trentino ogni anno si tiene questa manifestazione che coinvolge tutti i cittadini che realizzano in ogni angolo della città nei propri balconi fuori dall'ingresso della propria casa dei presepi e c'è un bellissimo gioco per grandi e piccini principalmente che è ma caccia il tesoro quindi tra i vari presepi bisogna trovare una serie di oggetti e ovviamente c'è un premio alla fine per chi li trova musica 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 come potete vedere il borgo in sé è un presepe e ovviamente non manca un buon panino, vero Pietro? Vi consigliamo se passate da queste parti nel periodo natalizio di venire a visitare Miola, è il paese dei presepi tra l'altro qui a Miola c'è questa splendida pista di pattinaggio Completando la caccia al tesoro si vince una tazza natalizia e anche un giro gratis sulla pista Guardateli come sfrecciano Trovato? Ho anche l'ultimo Il nostro ultimo tesorino Spero come te di più E per quest'anno la caccia al tesoro è stata un successo Vi salutiamo, mi raccomando se il video vi è piaciuto ricordatevi di mettere like e di iscrivervi al nostro canale Ed infine qualche suggerimento per mangiare e dormire in zona Il mio Lido che fa delle ottime pinze e soprattutto ha una vista magnifica Eccola qui la pinza E lì c'è il B&B 1000 Pilo Il mio Lido che fa delle ottime